Cos'è questo? Allora, inizia una nuova avventura. Con che spirito, con che voglia arrivi a Catanzaro? Sì, per trovare un'esperienza buona così. Perché 4 mesi fa non ho trovato bene l'esperienza a Modena, ma in questo momento è importante per me, per questa squadra, perché mi piace per venire qua, con la squadra, giocare bene. Anche mi piace tutti i giocatori, tutti aiutano, quando in campo, anche fuori in campo. È importante per me in questo anno. Ci descrivi un po' che tipo di giocatore sei? Qua? Come giochi. Come giochi, che ruolo? Io sono centrocampista, anche ho visto tanti giocatori che giochi insieme come me, ma in questo momento ho capito tutto, ho capito tutto. Sempre io voglio fare il mio miglio in campo, sempre così. Dicevi prima che a Modena non ti sei trovato bene, forse i problemi societari che c'erano lì e ti hanno creato difficoltà. Ma prima, 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 prima mese si è trovato bene, anche tutto è andato bene così, ma dopo è andato male così. Quando giochi a campo, non c'era il mio miglio in campo per giocare, è difficile, perso sempre così. La squadra ha giocato solo cinque partite, io ho giocato solo quattro partite, tre iniziato, uno secondo tempo. Senti, ora a Catanzaro dovrai cercare di trovare spazio, dovrai cercare di vincere la concorrenza con i tuoi compagni, insomma non sarà facile, però immagino sei pronto a far vedere le tue qualità. Sì, in questo momento non è facile così, sempre io voglio parlare con il mister per aiutarmi sempre così, cosa devi fare in campo, solo così mi piace. Perché sempre, anche la squadra, gli giocatori, tutti, tutti parlano con me, va bene così, come è andato, vai piano piano. Perché è difficile per me, tre mesi non giocare, è difficile per me in questo momento. Ma adesso il mister ha detto, va bene così, devi andare piano piano per trovare tutto. Senti, ti sei fatto un'idea della qualità della rosa, dove pensi tu che possa arrivare questo Catanzaro, che si trova comunque a ridosso dei play-off? Sì, sì, speriamo così. Quindi sperate nei play-off? Sì. Perché mi voglio questa squadra, io voglio vedere questa squadra in Serie B, prossimo anno. Sì, mi voglio quello. Perché mancano tanti, tanti, tanti partiti. Senti, sai che questo, dicevamo pure con il tuo compagno, è un campionato difficile, molto aggressivo, si picchia molto. Sì. Insomma, sei pronto anche da questo punto di vista? Sì, sì, certo. Come Modena è uguale, come Modena. Perché prima volta, prima settimana, quando ho fatto allenamento con la squadra, ho visto tutto. Non è come per la fiera a Taranta, perché è molto facile. Ma in questo momento, perché questa è una nuova esperienza per me. È importante per me. Ma quando giochi in campo, sì, è duro. Duro. Va bene, eccoci inizia. Grazie.